ATTENZIONE VIDEO ALTAMENTE VOLGARE! Ti sconsiglia a quelli più piccoli di guardare sto video! Perché contiene volgarità e robe brutte! Per tutti gli altri buona visione! Ah, il titolo del video... E se Topolino non fosse family friendly? INIZIAMO! Ehi là, salve! Sono io, Topolino! Allora, volete vedere il mio cazzone? Ah, sì! Grandioso! Su, vediamolo! Ah, ho sbagliato! Questo è il cazzo che me ne frega! Ah, sì! Grandioso! Su, vediamolo! Ah, me ne ero quasi dimenticato! Per far apparire il mio cazzo, dobbiamo dire la parola magica! TISCA! TUSCA! Fammi un bocchino! Diciamolo insieme! TISCA! TUSCA! MINI! Fammi un bocchino! TUSCA! 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 TUSCA!